Ciao ragazzi, oggi si torna a parlare di Euro 2024, gli europei, gli europei, la maglia dell'argentina non conto che questa è sudamericana e ragazzi, Nick ci aprirà un bel booster team della Topps, io non posso esserci ma lo farà per noi Nick, dai Nick, spacchetta spacchetta, trova qualcosa di sostanzioso, vai Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Nick Giu, come avete sentito da Giulio, quest'oggi torniamo a spacchettare le match attacks di Euro 2024 lo facciamo con un bellissimo booster team, il numero 3 con gli attaccanti Super Strikers e insieme andiamo ad aprire il pacchettino delle limited edition che troviamo nello starter pack visto che lo starter pack l'abbiamo aperto fuori video, visto che il video l'abbiamo già fatto e per chi l'avesse perso lo può recuperare andiamo ad aprire il pacchettino contenente le limited edition per scoprire quali sono io direi di un beccio in chiacchiere, di affinare la fortuna e di andare a spacchettare alla ricerca di qualche bellissima card vamos eccoci qua ragazzi, pronti a spacchettare questo bellissimo booster team delle match attacks di Euro 2024 della Tops prezzo di 9,99€ e all'interno abbiamo 28 card più 3 esclusive Super Strikers limited edition card che sono queste qua che troviamo raffigurate qua di Lukaku, Vlaovic e Morata sembrerebbe poi dopo verifichiamo prima però di andare ad aprire il booster team andiamo a aprire il pacchettino dove troviamo le limited edition dello starter pack oltre alla limited edition ci dovrebbero essere le carte da gioco diciamo quelle basi per giocare qua abbiamo un QR code che vi regaliamo Euro Elite di Cristiano Ronaldo limited edition che adesso voglio andare subito a controllare se sono uguali a quelle dello starter pack ci sono le starter pack limited edition, si Cristiano Ronaldo e Jude Bellingham infatti sono uguali però le abbiamo aperte per farvele vedere nel caso non avesse visto lo starter pack però ve lo potete andare a recuperare nel canale e poi Jude Bellingham Wonder Kid e poi le carte per il gioco Refri card VAR card queste sono attaccate Agent card Injury card e poi la power limited edition card che sono tutti i migliori giocatori che nonché la copertina della collezione primo pacchetto a parte e ora concentriamoci focalizziamoci sul booster team andiamo a prendere il nostro booster team vamos super strikers Ultimate stage booster team 3 come dicevo prima 28 card più 3 in 13 nel prezzo di 9,99 euro queste bellissime match attacks della tops dedicate all'europeo 2024 che si svolgerà quest'estate da giugno a luglio in Germania qua troviamo anche un'immagine probabilmente dalla Germania sentiamo le card dell'interno quindi è sostanzioso ci sono ma per affilare la fortuna e per far aprire il box perché altrimenti non si aprono cosa dovete fare ormai ve lo diciamo in ogni video dovete iscrivervi al canale massimo supporto è gratuito ragazzi premete il tasto il bottoncino rosso che trovate sotto al video e iscrivetevi al canale per trovare tantissimi altri contenuti del genere e poi colgo l'occasione ancora di ringraziare tops per averci mandato queste bellissime card e prodotti della collezione UEFA Euro 2024 della tops match attacks e match attacks extra se avete lasciato like e vi siete iscritti possiamo andare controllate se avete fatto bene 5 secondi veloce veloce per controllare direi che avete fatto eh se non avete fatto se aprirete queste card avrete tanta sfortuna perciò dovrete cioè vi conviene iscrivervi qua troviamo la classica diciamo quella che ci dà un po' di informazioni sui giocatori che abbiamo già visto negli altri video quindi ve la sfoglio velocemente lukaku summer le energy le euromaster le centurione e le firmate e chissà perché non ne troviamo una nuova in questo pacchetto eh sarebbe davvero una botta di fortuna incredibile le carte ci sono e non ci resta che andare a scoprirle allora queste card partiamo con jasmine kurtic della slovenia poi abbiamo brand della germania charles de ketelar del belgio dujan vlaovic della serbia danzo dell'austria rodri della spagna per ora tutte card base ovviamente gilmore della scozia paligna del portogallo della romania abbiamo banku seferovic della svizzera molto molto belle queste card spettacolari passiamo all'inghilterra con jordan anderson gertruida dell'olanda poi abbiamo giriamo della francia jules con de si vedono molte cose per luccicare dietro chissà cos'è crezzi chi crezzi crezzi non so come si pronuncia crezzi boh comunque della repubblica cieca più facile indovinare la nazione che il nome davide frattesi dell'italia questo è tripla quadrupla solo lui troviamo paulsen della danimarca stiamo per arrivare alle speciali se non siamo già arrivati ci siamo arrivati partiamo con ultimate 11 di virgil van dyck scorriamo sotto graduated gen di ivan ilic parallela xavi simone sempre graduated gen o black age black age ma non ci posso credere black age di antoine grisman ma è doppia no cioè non solo già la terza black age che troviamo ma è doppia l'abbiamo trovata nello short per chi se lo fosse perso lo trova nel canale no black age doppia quest'anno che sembrava essere l'anno delle black age che le trovavamo a go go già la terza del euro 2024 match attacks è incredibile la doppia porca miseria vediamo magari questa è numerata no purtroppo no black age doppia di antoine grisman che per tutto il rispetto è spettacolare queste carte sono spettacolari soprattutto le black age in questo retro qua però doppia no e vabbè la terremo come pezzo da collezione ai noi continuiamo con un capitano della scozia robertson golden goal scorer di cire immobile capitano jan o black della slovenia capitano virgil van dyke dell'olanda iro patrick chic golden goal scorer bravissime però che truffa che inganno la doppia black age no mannaggia e vabbè ce ne faremo una regione per questo booster team numero 3 della tops match attacks di euro 2024 è tutto numero 3 è tutto ma mancano le mamma mia ragazzi cosa mi stavo scherzando come si stava scordando le limitere edition meno male che ho preso il pacchetto meno male dalla disperazione della black age le limitere edition stavano per rimanere nella box scusate coupon per voi per farmi perdonare mamma mia per colpa della black age questa maletta black age di antoine gersman perciò speriamo che la francia esca ai gironi per colpa di questa black age e vediamo però le limitere edition che queste sono spettacolari guardate che bello lo sfondo che riflette con la luce spettacolare ultimate stage super striker di vlaovic guardate che bella sono anche di materiali diversi belle lisce spettacolari lukaku sempre ultimate stage super striker e l'ultimo super striker alvaro morata della spagna ok ora le abbiamo le limitere edition perciò ora lo spacchettamento è davvero concluso dal booster team numero 3 super striker di tops major tax euro 2024 è tutto andiamo saluti bene ragazzi canale per presti bassissimi per sbloccare tantissimi vantaggi e se volete potete stare su amazon il diario del clessinista il diario del fantacalcio il diario delle passports e il diario della formula 1 ciao ragazzi Sbloccare 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 Grazie a tutti